18. Il buio arrivò senza preavviso. Nell'aria di luglio c'era il gelo di dicembre e continuava a cadere una pioggia nera e gelida sulle rovine di Manhattan. Sorella Krip e Arti Wisco erano in piedi su una montagna di macerie e guardavano verso ovest. Dall'altra parte dell'Hudson stavano ancora bruciando dei fuochi nelle raffinerie di Hoboken e Jersey City. Ma a parte le fiamme arancioni, a ovest non c'era luce. Gocce di pioggia cadevano sull'ombrello contorto dai colori vivaci che Arti aveva trovato in quello che restava di un negozio di articoli sportivi. Il negozio aveva fruttato anche altri tesori. Uno zaino di nylon arancione fosforescente sulle spalle di Arti e un nuovo paio di scarpe da tennis ai piedi di sorella Krip. Nella borsa Gucci appesa alla sua spalla c'era una forma bruciata di pane di segale, due scatole di acciughe con le chiavette per arrotolare i coperchi, un pacchetto di prosciutto affettato che si era cotto nella plastica e una bottiglia miracolosamente intatta di ginger ale Canada Dry che era sopravvissuta alla distruzione di una gastronomia. Ci avevano messo diverse ore per superare il percorso tra la quinta strada e la loro prima destinazione, il Lincoln Tunnel. Ma la galleria stessa era crollata e il fiume era straripato fino ai caselli del pedaggio, assieme a una lunga ondata di auto distrutte, lastre di cemento e cadaveri. Si erano voltati indietro in silenzio. Sorella Krip aveva portato Arti verso sud, verso l'Holland Tunnel e un'altra strada sotto il fiume. Il buio era calato prima che ci arrivassero e adesso avrebbero dovuto aspettare l'indomani mattina per scoprire se anche quella galleria era crollata. L'ultimo cartello che sorella Krip aveva trovato diceva ventiduesima ovest, ma giaceva su un fianco nelle ceneri e avrebbe potuto essere stato portato lontano da dove quella strada si trovava realmente. «Bene», disse Arti piano, guardando dall'altro lato del fiume. «Sembra che non ci sia nessuno a casa, vero?» «No», sorella Krip rabbrividì e si strinse addosso con più vigore la pelliccia di visona. «Fa più freddo ora, dovremo trovare un riparo». Nel buio guardò verso le vaghe sagome delle poche strutture che non erano cadute. Una qualsiasi di esse avrebbe potuto cadere loro in testa, ma non le piaceva il modo in cui stava calando la temperatura. «Andiamo», disse e iniziò a camminare verso uno degli edifici. Arti la seguì senza fare domande. Durante il loro viaggio avevano trovato solo altre quattro persone che non erano state uccise dall'esplosione e tre di esse erano state così straziate da essere molto vicine alla morte. La quarta era stata un uomo terribilmente ustionato, in un abito gessato, che aveva iniziato a ululare come un cane quando si erano avvicinati e si era infilato in una fessura per nascondersi. Quindi sorella Krip e Arti avevano proseguito, camminando su così tanti cadaveri che l'orrore della morte aveva perso il suo effetto. Adesso erano scioccati ogni volta che sentivano un gemito tra le macerie, o, come era accaduto una volta, qualcuno ridere e gridare in lontananza. Erano andati nella direzione della voce, ma non avevano visto essere vivente. La risata folle perseguitava sorella Krip. Ne ricordava la risata che aveva sentito in quel cinema, quella dell'uomo con la mano in fiamme. «Ci sono altri ancora vivi là fuori», aveva detto, in attesa di morire. «Non ci vorrà molto, nemmeno per te». «Questo lo vedremo, stronzo», disse sorella Krip. «Cosa?» chiese Arti. «Oh, niente. Stavo solo pensando». Pensare, si rese conto. Pensare era una cosa che non faceva spesso. Gli ultimi anni erano confusi e, al di là di quelli, c'era un'oscurità interrotta solo dalla luce blu lampeggiante e dal demone nell'impermeabile giallo. D'un tratto pensò, «Il mio vero nome non è sorella Krip. Il mio vero nome è...» ma non sapeva quale fosse e non sapeva chi fosse o da dove venisse. «Come sono arrivata qui?» si chiese, ma non era in grado di darsi una risposta. Entrarono nei resti di un edificio di pietra grigia arrampicandosi su un mucchio di macerie e strisciando in un foro nel muro. Dentro era buio pesto e l'aria era umida e fumosa, ma almeno erano al riparo dal vento. Avanzarono a tentoni su un pavimento inclinato finché non trovarono un angolo. Quando si furono sistemati, sorella Krip frugò nella sua borsa per estrarne la forma di pane e la bottiglia di ginger ale. Le sue dita accarezzarono il cerchio di vetro che aveva avvolto in una maglietta a strisce bruciata che aveva tolto un manichino. Gli altri pezzi di vetro avvolti nella sciarpa blu erano in fondo alla borsa. «Tieni». Strappò un pezzo di pane e lo diede a darti. E poi ne strappò uno per se stessa. Aveva solo un sapore di bruciato, ma era meglio di niente. Svitò il tappo della bottiglia di ginger ale e la bevanda iniziò immediatamente a schiumare, schizzando ovunque. Se la portò velocemente alle labbra, beve diversi sorsi e passò la bottiglia a darti. «Odio il ginger ale», disse l'uomo dopo aver finito di bere. «Ma questa è la roba migliore che abbia mai bevuto in tutta la mia vita». «Non berlo tutto». Sorella Krip decise di non aprire le acciughe, perché il loro sale li avrebbe solo resi più assetati. Le fette di prosciutto erano troppo preziose per mangiarle, ancora. Gli diede un altro pezzetto di pane, ne prese un altro per sé e mise via il resto. «Sai cosa ho mangiato per cena prima che accadesse questo?» Le chiese Arti. «Una bistecca. Una bella bistecca grossa in un posto sulla quindicesima est. Poi alcuni dei ragazzi e io abbiamo iniziato il giro dei bar. Una gran notte, ti dico. Ci siamo divertiti tantissimo». «Buon per te». «Sì. Tu che stavi facendo quella notte?» «Niente di speciale», disse lei. «Ero in giro». Arti restò in silenzio per un po', masticando il pane. Poi disse «Ho chiamato mia moglie prima di lasciare l'albergo. Penso di averle raccontato una balla, perché le ho detto che sarei solo uscito per cenare e sarei tornato in albergo per andare a dormire. Lei mi ha detto di stare attento e poi che mi ama. Io le ho risposto che la amo e che ci saremmo rivisti un paio di giorni dopo». Tacque. E quando sospirò, sorella Crip sentì che tratteneva il fiato. «Gesù», sussurrò lui. «Sono contento di averla chiamata. Sono contento di avere avuto la possibilità di sentire la sua voce prima che accadesse. E signora, e se anche Detroit è stata colpita?» «Colpita? Che intendi con colpita?» «Una bomba nucleare», disse lui. «Che altro pensi possa aver fatto una cosa del genere? Una bomba nucleare? Forse più di una? Quelle cose probabilmente sono accadute su tutto il paese? Forse hanno colpito tutte le città? E anche Detroit?» La sua voce stava diventando isterica e lui si costrinse ad aspettare fino a quando non riprese il controllo di se stesso. «I dannati russi ci hanno bombardati, signora. Non leggi i giornali?» «No». «Che stavi facendo? Vivevi su Marte? Chiunque legga i giornali e guardi la tv avrebbe potuto prevedere questa merda. I russi ci hanno bombardati a morte. E suppongo che noi abbiamo fatto la stessa cosa a loro». «Una bomba nucleare», pensò lei. Ricordava astento cosa fosse. La guerra nucleare era qualcosa di cui si era preoccupata in un'altra vita. «Spero che se hanno colpito Detroit lei sia morta velocemente. Voglio dire, va bene sperarlo, no? Che sia morta velocemente, senza dolore». «Sì, penso che vada bene». «Va bene se le ho detto una bugia». «Era a fin di bene. Non volevo che si preoccupasse per me. Si preoccupa che io finisca per bere troppo e rendermi ridicolo. Non reggo l'alcol molto bene». «Va bene se le ho detto una bugia a fin di bene. Quella sera». Lei sapeva che lui la stava implorando perché gli dicesse che andava bene. «Certo», gli disse. «Un sacco di gente ha fatto cose peggiori quella sera. Lei è andata a dormire senza preoccupazioni. Non... Qualcosa di appuntito punse la guancia sinistra di sorella Krip?» «Non muoverti». Le ordinò una voce di donna. «Non respirare nemmeno». La voce tremava. Chiunque stesse parlando era spaventato a morte. «Chi è là?» chiese Arti, a cui era quasi venuto un colpo per lo spavento. «Ehi, signora! Stai bene?» «Sto bene», rispose sorella Krip. Portò la mano alla guancia e toccò un pezzo di vetro seghettato, simile a un coltello. «Ho detto di non muoverti». Il vetro la pusse un po' di più. «Quanti altri ci sono con te?» «Solo uno». «Artiwisco! Mi chiamo Artiwisco! Dove sei?» Ci fu una lunga pausa. Poi la donna disse. «Avete del cibo?» «Sì». «Acqua». Questa volta era la voce di un uomo, più sulla sinistra. «Avete dell'acqua?» «Non acqua, ma ginger ale». «Vediamo che aspetto Hannobet», disse l'uomo. Si accese la fiamma di un accendino, così forte nel buio che sorella Krip dovette chiudere gli occhi per qualche secondo, a causa del bagliore. La donna avvicinò la fiamma al volto di sorella Krip e poi verso Arti. «Credo siano a posto», disse all'uomo, che entrò nel cerchio di luce. Sorella Krip riuscì a distinguere la donna accovacciata accanto a lei. Il suo volto era gonfio e sull'attaccatura del naso aveva un taglio, ma sembrava giovane, forse sui venticinque, con alcuni ciuffi di capelli ricci e castano chiaro che le pendevano dalla testa piena di vesciche. Le sue sopracciglia erano state bruciate e i suoi occhi azzurro scuro erano gonfi e iniettati di sangue. Era una donna esile e indossava un abito a strisce blu macchiato di sangue. Le sue braccia lunghe e fragili erano ricoperte di vesciche. Intorno alle spalle aveva quello che sembrava parte di una tenda dorata. L'uomo indossava gli stracci di un uniforme da poliziotto. Era più vecchio, probabilmente di quasi 40 anni, e la maggior parte dei suoi capelli neri dal taglio militare restava sul lato destro della sua testa. Sulla sinistra erano stati bruciati fino al cuoio capelluto. Era un uomo grosso e robusto, e il suo braccio sinistro era bendato e sostenuto da una fascia fatta dello stesso materiale grezzo e dorato. «Mio Dio!» disse Artie. «Signora, abbiamo trovato un poliziotto!» «Da dove siete venuti voi due?» le chiese Beth. «Da là fuori. Da dove altrimenti?» «Cosa c'è nella borsa?» La donna fece un cenno verso di essa. «Me lo stai chiedendo o mi stai rapinando?» La donna esitò. Lanciò un'occhiata al poliziotto e poi di nuovo a sorella Krip e abbassò il pezzo di vetro. Se lo infilò in una fascia legata intorno alla sua vita. «Te lo sto chiedendo!» «Pane bruciato, un paio di scatole di acciughe e delle fette di prosciutto.» Sorella Krip riuscì quasi a vedere la giovane donna iniziare a salivare. Infilò una mano nella borsa ed estrasse il pane. «Tieni! Buon appetito!» Beth ne strappò un pezzo e diede il restante al poliziotto che a sua volta ne strappò un po' e se lo mise in bocca come se fosse una manna del cielo. «Per favore!» disse Beth e allungò la mano verso il ginger ale. Sorella Krip glielo diede e quando lei e il poliziotto ne ebbero bevuto entrambi ne restarono forse tre sorsi decenti. «Tutta l'acqua è contaminata!» le disse Beth. «Uno di noi ha bevuto da una pozzanghera ieri. È iniziato a vomitare stanotte. Ci ha messo quasi sei ore a morire. Ho un orologio che funziona ancora. Vedi?» Mostrò orgogliosa al suo Timex a sorella Krip. Il cristallo era sparito, ma quel vecchio orologio ancora ticchettava. Erano le otto e ventidue. «Uno di noi» aveva detto. «Quanta altra gente c'è qui?» chiese sorella Krip. «Altri due. Beh, una in realtà. La donna spagnola. Abbiamo perso il signor Kaplan la scorsa notte. È quello che ha bevuto l'acqua. Anche il ragazzo è morto ieri. E la signora Ivers è morta nel sonno. Ne restano quattro di noi». «Tre», disse il poliziotto. «Sì, giusto. Siamo rimasti in tre. La donna spagnola è nel seminterrato. Non riusciamo a farla muovere e nessuno di noi due capisce lo spagnolo. Voi?» «No, mi spiace». «Io sono Beth Phelps e lui è Jack...» Non ricordava il suo cognome e scosse la testa. «Jack Tomacek», completò lui. Artie si presentò di nuovo. Ma sorella Krip disse «Perché voi altri non siete qua sopra invece che nel seminterrato?» «Fa più caldo laggiù», le disse Jack. «Ed è anche più sicuro». «Più sicuro? In che senso? Se questo vecchio edificio si muove di nuovo verrà giù sulle vostre teste». «Eravamo qua sopra ieri», spiegò Beth. «Il ragazzo, immagino avesse intorno ai quindici anni, era il più forte di noi. Era un etiope o qualcosa del genere e parlava pochissimo inglese. È uscito in cerca di cibo e ha riportato qualche confezione di carne in scatola, cibo per gatti e una bottiglia di vino. Ma loro lo hanno seguito fino a qui. Ci hanno trovati». «Loro?» chiese Artie. «Loro chi?» «Erano in tre, ostionati così tanto che non si riusciva a dire se fossero uomini o donne. Lo hanno seguito fino a qui e avevano martelli e bottiglie rotte. Uno di loro aveva un'ascia. Volevano il nostro cibo. Il ragazzo ha lottato con loro e quello con l'ascia smise di parlare, con gli occhi vitrei e fissi sulla fiamma arancione dell'accendino che aveva in mano. «Erano pazzi», disse. «Loro non erano umani. Uno di loro mi ha tagliato in faccia. Immagino di essere stata fortunata. Siamo fuggiti e loro hanno preso il nostro cibo. Non so dove siano andati, ma ricordo che odoravano come... come cheeseburger bruciati. Non è strano? È quello che ho pensato. «Cheeseburger bruciati». E così siamo scesi nel seminterrato per nasconderci. Non si può dire quali altri tipi di cose ci siano là fuori?» «Non ne conosci nemmeno la metà», pensò sorella Crip. «Ho tentato di respingerli», disse Jack, «ma immagino di non essere più in forma per lottare». Si voltò e sia sorella Crip che Artie trasalirono. La schiena di Jack Tomacek, dalle spalle alla vita, era una massa scarlatta e suppurante di tessuto ustionato. Si voltò di nuovo verso di loro. «La peggiore cazzo di scottatura che questo vecchio polacco abbia mai avuto», rise con amarezza. «Vi abbiamo sentiti qua sopra», disse loro Beth. «All'inizio abbiamo pensato che quelle cose erano tornate. Siamo saliti per ascoltare e vi abbiamo sentiti mangiare. Ascoltate, nemmeno la donna spagnola ha mangiato. Posso portarle del pane?» «Portateci nel seminterrato». Sorella Crip si alzò in piedi. «Aprirò il prosciutto». Beth e Jack li condussero nel corridoio. Dell'acqua scorreva dall'altro lato, formando una grande pozza sul pavimento. Alla fine del corridoio, una rampa di scale di legno senza ringhiera scendeva nell'oscurità. La rampa di scale tremò precariamente sotto i loro piedi. Il seminterrato sembrava davvero essere più caldo, di cinque o sei gradi appena, anche se il respiro restava ancora visibile. Le pareti di pietra ancora resistevano e il soffitto era quasi intatto, tranne per qualche foro che lasciava filtrare l'acqua piovana. «Era un edificio vecchio», pensò sorella Crip, «e non li costruivano più così». Il soffitto era sorretto da pilastri di pietra collocati a intervalli regolari. Alcuni erano coperti di crepe, ma non era crollato nemmeno uno. «Non ancora», si disse sorella Crip. «Eccola lì». Beth si avvicinò a una figura accovacciata alla base di uno dei pilastri. Dell'acqua nera stava scorrendo direttamente sulla testa della figura. La donna sedeva in una pozza d'acqua contaminata che si stava allargando e teneva qualcosa tra le braccia. L'accendino di Beth si spense. «Mi dispiace», disse. «Diventa troppo caldo per tenerlo in mano e non voglio consumare tutto il carburante. Era del signor Kaplan». «Che avete fatto dei corpi?» «Li abbiamo portati via. Questo posto è pieno di corridoi. Li abbiamo portati in fondo a uno di essi e li abbiamo lasciati. Io... io volevo dire una preghiera per loro, ma... ma cosa?» «Ho dimenticato come si prega», rispose lei. «Pregare non sembrava avere più molto senso». Sorella Crip grugnì e infilò la mano nella borsa per prendere il pacchetto di prosciutto affettato. Beth si accovacciò e offrì la bottiglia di ginger ale alla donna spagnola. L'acqua piovana le bagnò la mano. «Tieni», disse. «È qualcosa da bere. Las bevandas». La donna spagnola fece un suono simile a una anemia mugolante, ma non rispose. «Non vuole spostarsi da qui», disse Beth. «L'acqua la sta bagnando tutta e non si vuole spostare neanche di un metro in un posto asciutto». «Vuoi del cibo?», chiese la donna spagnola. «Mangiare! Mangiare! Cristo, come puoi vivere a New York City senza parlare inglese?» Sorella Crip riuscì a togliere la maggior parte della plastica dal prosciutto. Ne strappò un pezzo e si piegò sulle ginocchia accanto a Beth Phelps. «Osa di nuovo l'accendino. Magari se vede quello che abbiamo potremo tirarla via da lì». L'accendino si accese. Sorella Crip guardò il volto coperto di vesciche, ma sempre bello, di una ragazza ispanica che forse poteva avere vent'anni. I suoi lunghi capelli neri erano bruciacchiati all'estremità e qua e là, sulla testa, c'erano dei vuoti in cui chiazze di capelli erano state bruciate. La donna non prestò attenzione alla luce. I suoi occhi marroni, grandi e tristi, erano fissi su ciò che cullava tra le braccia. «Oh!» disse sorella Crip piano. «Oh, no!» Il bambino aveva forse tre anni. Una bambina, con capelli neri e lucidi come quelli della madre. Sorella Crip non riusciva a vedere il volto della bambina. Non voleva vederlo. Ma una manina si era irrigidita, come se si stesse allungando verso la madre, e la rigidità del cadavere tra le braccia della donna le fece capire che la bimba era morta da qualche tempo. L'acqua stava filtrando da un foro nel soffitto, scorrendo tra i capelli della donna spagnola e sul suo volto come lacrime nere. Iniziò a canticchiare gentilmente, cullando il cadavere amorevolmente. «È fuori di testa», disse Beth. «È così da quando la bambina è morta la scorsa notte. Se non si allontanerà da quell'acqua anche lei morirà». Sorella Crip sentì Beth solo vagamente, come se parlasse da molto lontano. Allungò le braccia verso la donna spagnola. «Ecco», disse, con quella che sembrava la voce di un estraneo. «La prendo io, dalla me». L'acqua piovana le scorreva su mani e braccia in rivoli debano. La cantilena della donna spagnola diventò più forte. «Dalla a me, la prendo io». La donna iniziò a cullare il corpo più intensamente. «Dalla a me». Sorella Crip iniziò a sentire la sua voce echeggiare follemente e di colpo nei suoi occhi ci fu una luce blu lampeggiante. «Io la frenterò». Stava cadendo la pioggia e un tuono rombava come la voce di Dio. «Tu, tu, peccatrice, tu, peccatrice ubriaca, l'hai uccisa e adesso dovrai pagare». Abbassò lo sguardo. Tra le sue braccia c'era il cadavere di una ragazzina. C'era del sangue tra i capelli biondi della bambina e i suoi occhi erano aperti e pieni di pioggia. La luce blu dell'auto della polizia di stato stava girando e il poliziotto nell'impermeabile giallo, accovacciato sulla strada davanti a lei, stava dicendo gentilmente «Forza, deve darla a me adesso». L'uomo si guardò alle spalle, verso l'altro poliziotto che stava sistemando dei segnali luminosi vicino al rottame di un'auto capovolta. «È fuori di testa? Sento anche l'odore di alcol. Dovrai aiutarmi». E poi entrambi stavano allungando le braccia verso di lei, entrambi i demoni con l'impermeabile giallo tentando di prenderle la bambina. Lei si ritrasse e resistette, gridando «No, non potete averla, non ve la lascerò prendere». Ma il tuono comandò «Dalla a loro, peccatrice, dalla a loro!» E quando lei gridò e si mise le mani sulle orecchie per chiudere fuori la voce del giudizio, le portarono via la sua bambina. E dalla mano della bambina cadde una sfera di vetro, il genere di oggetto che contiene una piccola scena innevata, un finto villaggio nel paese delle favole. «Mamma!» ricordò che la bambina aveva detto, eccitata, «Guarda cosa ho vinto alla festa! Sono stata la più brava a infilare la coda all'asino!» La bambina aveva scosso la sfera e per un istante, solo per un istante, sua madre aveva distolto gli occhi dalla strada per concentrare la sua vista annebbiata sulla scena della neve che cadeva sui tetti di una terra perfetta e lontana. Guardò cadere la sfera di vetro in un terribile movimento al rallentatore e gridò perché sapeva che stava per rompersi sull'asfalto e quando si fosse rotta tutto sarebbe scomparso e sarebbe stato distrutto! Impattò davanti a lei e quando si frantumò in mille pezzi di spazzatura scintillante, il suo grido si fermò con un gemito strozzato. «Oh!» sussurrò. «Oh! No!» Sorella Creep fissò la bambina morta tra le braccia della donna spagnola. «La mia bambina è morta», ricordò. «Ero ubriaca. Sono andata a prenderla a una festa di compleanno e dalla strada sono finita dritta in un fossato». «Oh Dio! Oh caro Gesù! Una peccatrice! Una peccatrice ubriaca e malvagia! L'ho uccisa io! Ho ucciso la mia bambina! Oddio! Oddio! Perdonami!» Delle lacrime le bruciarono gli occhi e le corsero sulle guance. Frammenti di ricordi le vorticavano nella mente, come foglie morte nel vento. Suo marito infuriato che la malediceva dicendo che non voleva più rivederla. La sua stessa madre che la guardava con disgusto e pietà dicendole che non avrebbe mai dovuto avere una figlia. Il dottore alla casa di cura che annuiva e controllava l'orologio, i corridoi dell'ospedale in cui donne grottavano fortesche, dinoccolate e pazze parlottavano, urlavano e lottavano l'una con l'altra per dei pettini e l'alto recinto su cui si era arrampicata a notte fonda durante una tormenta di neve per raggiungere la foresta dall'altra parte. «La mia bambina è morta», pensò, morta e sepolta tanto tempo fa. Le lacrime quasi la cecarono, ma riusciva a vedere abbastanza da sapere che la sua bambina non aveva sofferto come quella tra le braccia della donna spagnola. La sua bambina era stata sepolta sotto un albero ombroso in cima a una collina. Questa bambina sarebbe rimasta per sempre in un seminterrato freddo e umido, in una città di morti. La donna spagnola alzò la testa e guardò sorella Krip con occhi spiritati. Sbatté le palpebre e allungò lentamente una mano nella pioggia per toccare la guancia di sorella Krip. Una lacrima restò in equilibrio sulla punta del suo dito prima di cadere. «Alto a me», sussurrò sorella Krip. «La prenderò io». La donna spagnola guardò di nuovo con desiderio il cadavere e poi le lacrime le sgorgarono dagli occhi e si mescolarono alla pioggia nera sul suo volto. Baciò la fronte della bambina morta, la strinse a sé per un momento e poi porse il cadavere a sorella Krip. Lei prese il corpo, come se stesse accettando un dono, e iniziò ad alzarsi. Ma la donna spagnola allungò di nuovo la mano e toccò la ferita a forma di crocifisso sul collo di sorella Krip. Disse sorpresa «Bendito, muy bendito». Sorella Krip si alzò e la donna spagnola strisciò lentamente fuori dall'acqua e si sdraiò sul pavimento, rannicchiata e in preda ai brividi. Jack Tomacek prese il cadavere a sorella Krip e si allontanò nell'oscurità. «Non so come, ma ce l'hai fatta», disse Beth. Si chinò per offrire alla donna spagnola la bottiglia di ginger ale. La donna la prese e la finì. «Mio Dio», disse Artiwisco, in piedi dietro a lei. «Mi sono appena reso conto che non so nemmeno come ti chiami». «Mi chiamo…» «Come?» si chiese. «Come mi chiamo? Da dove vengo? Dov'è quell'albero ombroso che ripara la mia bambina?» Nessuna delle risposte arrivava. «Vuoi chiamarmi?» esitò. «Sono una barbona», pensò. «Non sono nient'altro che una barbona senza nome e non so dove sto andando, ma almeno so come sono arrivata qui». «Sorella», rispose. «Vuoi chiamarmi sorella», e la consapevolezza la raggiunse come un urlo. «Non sono più pazza». «Sorella», ripete Arti. «No, regra anche come nome, ma credo che andrà bene. Piacere di conoscerti, sorella». Lei annui, con i ricordi annebbiati che ancora vorticavano. Il dolore per quello che aveva ricordato era ancora con lei e sarebbe rimasto, ma quello era successo molto tempo prima, a una donna più debole e inerme. «Che faremo adesso?» le chiese Beth. «Non possiamo restarcene qui e basta, vero?» «No, non possiamo. Domani Arti e io attraverseremo l'Holland Tunnel, se non è crollato. Andremo a Ovest. Se voi tre volete venire con noi siete i benvenuti». «Lasciare New York? E se non c'è più niente là fuori? Se tutto è sparito?» «Non sarà facile», disse sorella con fermezza. «Sarà dannatamente dura e dannatamente pericoloso. Non so cosa farà il clima, ma iniziamo con un passo e quello è l'unico modo che conosco per arrivare in qualsiasi posto. Giusto? Giusto», le fece Eco Arti. «Hai delle buone scarpe, Beth. Quelle scarpe ti porteranno lontana». «Abbiamo una lunga strada da percorrere», riflette sorella. «Una strada molto lunga. Ed io solo sa cosa troveremo là fuori o che cosa troverà noi». «Va bene», decise Beth. «Va bene. Io sono con voi». Spense di nuovo la fiamma del suo accendino per risparmiare carburante. Ma questa volta il buio non sembrava così intenso.